Gli agenti della Polizia di Stato, della squadra investigativa e della sezione volante del commissariato di Battipaglia hanno tratto in arresto due giovani battipagliesi di 21 e 26 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti nel transitare in via Domorossola notavano due giovanissimi che si avvicinavano ad un'autovettura parcheggiata ricevendo un involucro dalle persone sedute al lato passeggero dopo avergli dato una banconota. Immediate scattavano i controlli da parte degli agenti, che fermavano l'autovettura sottoponendo gli occupanti a perquisizione personale e veicolare. Sono stati rinvenuti vari involucri di cellophane contenenti hashish per un peso complessivo di 60 grammi, sia in dosso due giovani che in vari scomparti interni dell'auto. Veniva rinvenuto anche un bilancino di precisione e di piccole dimensioni di cui gli occupanti si erano disfatti gettandolo dal finestrino. I due venivano tratti in arresto e posse a disposizione dell'autorità giudiziaria.